Questa sera, nel Principato di Monaco, la madre di tutte le battaglie, derby bastardo tra Francia e Italia, Monaco Juventus, vogliamo basso e cerchiamo di fare questo gol che ci permetterebbe di mettere la partita in discesa, forza Juve, ma detto questo voglio anche dire che ahimè nonostante la speranza che è sempre quella che si accende, quando odi un sistema con tutte le tue forze lo odi, proprio un sistema che è europeo, ha centrato sulla Germania che ahimè con questo cazzo di Euro ha fatto un patatrac, siamo qua a Grecia che è andata a Grecia, gambe all'aria e si soffre, inutile nasconderci dietro a un dito, però poi se si vede il Bayern di ieri purtroppo la realtà poi è quella che conta, le speranze, il buttarsi così col cuore a fare considerazioni come ho fatto io col Bayern, poi anche se non ha ancora vinto la Champions ma ci sono buone possibilità che la vinca perché quel Bayern visto ieri sotto un certo aspetto senza Ribéry e senza Robben una squadra più quadrata e più tattica, mentre quelli sono giocatori un po' più anarchici, sono giocatori più istintivi, soprattutto Robben. Se si riuscisse a fare in modo che giocano questi qua, leggermente, sì si hanno giocato ma cambierebbe leggermente il gioco, sarebbe meno impulsivo, meno d'impatto perché le Bayern visto ieri i ragazzi vicino alla Juve come la lava che passa sulla paglia, poi non me ne voglia Buffon che fa delle uscite, ragazzi che io prendo pazienza, poi la basso Gigi, è andato a dire ci siamo anche noi, il consapevole ritenere delle difficoltà, bla bla bla, siamo tornati, ma dove siamo tornati? Uno, dobbiamo battere il Monaco e fino a ieri soltanto siamo usciti dalla Champions in maniera quasi ridicola, mi dispiace parlare così, però mi piace volare basso, nell'82 chi si può ricordare abbiamo volato molto basso quando si abbiamo incontrato Brasile e Argentina, c'è un sitomba, siamo stati noi, nel 2006 la Juve con quei calciopoli, farsopoli, poi la Juve ci ha regalato il mondiale, non scordate tutti i tifosi, non scordatevi che se non c'era la Juventus, quel mondiale lì, non eravate a urlare per strada, ok? Rispetto alla Juve, rispetto. E poi c'è Buffon che dice siamo tornati, consapevoli delle difficoltà, va bene, con orgoglio, ma c'è il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, lo stesso Atletico Madrid che sarà gioca stasera a Santiago Bernabeu con il Madrid, vediamo un po', ma tra le due partite abbiamo perso, l'hai pareggiato in casa, saremo usciti, Gigi, vogliamo basso, come tutti i Juventini sono convinti che volano basso e sono convinto che tutti i Juventini avranno sentito la conferenza stampa di Buffon, hanno storto al naso, e te credo, forza Juve, dai ragazzi, cerchiamo di fare questo gol che ci permetterebbe di arrivare nei 4 e lì avremo già raggiunto una buona soddisfazione e consapevoli che quello che viene in più veramente cade dal cielo. Salute a tutti!